abbiamo appena confermata la posizione che c'è chi sta sperando a casa contro l'innocente eliminalo prima che faccia altre attime inizia la messa si ma rossa su c'è chi ma ecco a noi basta eliminalo ma ci mancate non mancato non è rossa non c'è manca scusate no ma ci non manca fissate che sono pescato non è possibile ma io non c'era boh ma ci mancate che boh la scione fallita